Invece l'abbraccio lo metto sul fianco, lo metto sul fianco, questo qua, il testo sul fianco, così. E chi dica l'altro nella ciasca a Diego? Così, buona. Buona, buona, buona. Buona, buona. Domanda a tutte e due, dovete dare una domanda, io le faccio una e mi rispondo. Quanto ti è simpatico? Buona, buona, buona. Buona, buona. Bravano, ragazzo. Vai, vai, vai. E per te? Per te metto. Diego, cosa gli invidi? Cosa gli invidio? E' una posizione in bicicletta. Cosa? Cosa gli invidi E' una posizione di bicicletta. In bicicletta. E' una posizione in bicicletta. V miracolo. In bicicletta. E' una posizione di bicicletta. VULA. E' una posizione di bicicletta bionda o mua? Castana. Le biondi sono carine, ma ti muore sentito. Tu ce l'hai, tu ce l'hai! Non è neanche volgare. Ok, fai con sorriso, 1, 2, 3. Siamo o non siamo un po' sorprendenti? Sì, sì, sì. Fate le fanno dati, se ne voglio dire. Zingo, chi è il tuo bello? No, è una bella botta. Dai, lasciamo a due. Forse dopo la 2-3 giorni in Svizzera... E' stata venuta a vero. Dai che mese, dai. Non andava bene. Ciao, al prossimo mese. Aspettiamo un domenica. Ciao, ciao, vi aspettiamo un video. Che entusiasmo, vatelo un po' a mio... Io a mio porno!